Sono Mike della scuola Berghero di Pussano e oggi sono stato all'incontro con Luca Bette. Lui oggi ci ha parlato, ci ha dato tante motivazioni per la vita, perché la vita serve sempre esperienza, a dare tutto quello che hai dentro, non devi chiudere. La storia sua mi ha affascinato anche un po' perché riguarda un po' anche a me, che la vita, dobbiamo essere forti per dare tutto quello che abbiamo dentro. Non ci ferma nessuno, è una parola che dobbiamo mettere in testa e in cuore perché tutto dipende da noi, non sono gli altri a darci o a fermarci, siamo noi a fermarci se vogliamo, però non dobbiamo fermarci mai, quindi non ci ferma nessuno.